Bella a tutti ragazzi ora andiamo a giocare a Brawl Stars Brawl Stars, yeah Aspetta su povero 4 brawl 12 facciamo il football football ma no se sono 3 sono impossibile da battere sono fortissimi insieme tutti e 3 e come faccio come facciamo noi a batterli dove è la palla dove è Perchè tira una palla? Prendetela Gliudiii Questo po' vuole uccidermi Un altro gol Uguali Gliudiii Si ne avranno 2 la vittoria Destroi Destroi Ho stoppato il video Perché dopo un anno non avevo fatto ancora un gol Dai scherzo Ho stoppato il video di quel po' il canale Vabbè Mala mia Non si può spostarla Yopin in cinese Vuol dire stupido Abbiamo segnato Finalmente Muovite Passafra 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 Passa King Passa Passa Che gol Un video di tre minuti No Un video di Cinco minuti Ora facciamo questo In singolo Che sto facendo In singolo Dai iniziamo Non facciamo chiacchiere Ognuno per si Ognuno per si Eeeh Quello mi ha paura L'uomini siamo Arrivo con il cauter E lo massacro Oh no Oh no Sacchio bici Sacchio bici Sacchio bici No Yeah Cos'è quella roba? Due laghi Vuol dire Volo io Scrivete sotto ai commenti Vi chiamate Ragazzi Pro Io sicuramente Saperò che siete più forti di me Destroy Destroy Ok Possiamo anche stoppare il video Ok Iscrivetevi al canale Eeeh Aspetta Qua è difficile farlo Eeeh